Altre due settimane di cassa integrazione a novembre nello stabilimento Stellantis di Atessa, ma ci sarà anche un parziale ritorno al terzo turno dotturno per un aumento delle richieste del furgone Ducato. E quanto comunicato dalla direzione aziendale di Stellantis ai sindacati, una questione è quella dell'automotive che riguarda da vicino anche la provincia di Teramo e su cui i sindacati Fim Cisle e Fium CGL hanno incontrato le RSU delle aziende per discutere del momento di incertezza che il settore sta vivendo, ma anche dello sciopero nazionale di settore previsto per il 18 ottobre 2024 a Roma. Non solo la cassa integrazione di Stellantis, ma tutto l'indotto tedesco che purtroppo sta in sofferenza rispetto al piano sull'elettrico, dove ci sono parecchi problemi. Innanzitutto c'è una forte preoccupazione per la transizione dove non si stanno investendo le risorse che si dovrebbero investire. Tra l'altro l'invasione della Cina che ci sta attaccando e aggredendo sull'elettrico in particolar modo e bisogna fare fronte comune in Europa, la politica deve ritornare a fare quello fronte comune perché se ognuno si guarda il suo orto alla fine l'onda travolgerà tutti. Il tessuto industriale del Teramano lo denunciamo noi dal 2017, poi è subentrato Stellantis e sono circa 75 mila lavoratori a rischio in tutta la nazione e di cui 2 mila sono nel Teramano. Per i sindacati la mancanza di politiche industriali sia nazionali che regionali ai bassi volumi stanno determinando l'interruzione di tanti contratti interinali e l'aumento esponenziale di ore di cassa integrazione stanno riducendo fortemente i salari di lavoratrici e lavoratori. In questo momento tutte le aziende del nostro indotto che sono legate a Stellantis e sottolineo sono tutte quelle dell'automotive, stanno subendo forti riduzioni dei volumi produttivi che si abbattono sulle nostre lavoratrici e lavoratori in che termini? Con l'interruzione dei contratti interinali, quindi a tempo determinato, e con le ore di cassa integrazione che aumentano vertiginosamente riducendo fortemente il salario di lavoratrici e lavoratori. Noi diciamo che invece ci deve essere in questo momento una presa di posizione del governo, ci deve essere in questo momento un'analisi effettiva della situazione da parte regionale che anziché dire solo esclusivamente allunghiamo la data del 2035 dovrebbe appunto ragionare su quali sono le infrastrutture e che cosa bisogna fare appunto per essere pronti a un cambiamento che arriverà inesorabile.